Ellen Pompeo Shock, Patrick Dempsey è diventato una star grazie a lei Ellen Pompeo e Patrick Dempsey sono la coppia che ha fatto innamorare più persone, ma la loro relazione è confinata solo alla fantasia. Meredith Grey e Derek Shepard sono le icone di Grey's Anatomy e per anni il loro amore ha fatto il giro del mondo, facendo sognare il pubblico. La bellissima Pompeo ha svelato unimportante retroscena, spiegando perché sia merito suo se Dempsey è diventato la star che è oggi. Derek sì o no? Ellen Pompeo ha scelto Patrick Dempsey. Ellen Pompeo ha interpretato e continua ad interpretare a distanza di anni il ruolo della sexy dottoressa Meredith Grey, innamorata da sempre del famoso neurochirurgo Derek Shepard, interpretato dal bellissimo attore Patrick Dempsey. Ma come ha fatto l'attore a conquistare questo ruolo? Lo ha svelato la sua collega Pompeo, dicendo che in origine la parte di Derek doveva essere affidato a Isaiah Washington, diventato poi Preston Burke, ma fu proprio Ellen ad insistere perché fosse Patrick Dempsey l'uomo con cui avrebbe avuto una relazione nello show poiché, essendo sposata con i veri, le sarebbe sembrato strano avere una relazione, sul set, con un uomo che assomigliava tanto a lui. a suo marito. . Questa obiezione fece sì che la scelta finale cadesse proprio sul bel Dempsey che, grazie al ruolo di Derek, è diventato una delle star più desiderate di Hollywood, oltre che un sex symbol di portata internazionale. . Grace Anatomy che passione, la storia d'amore tra Meredith e Derek. La prima puntata della celebre serie tv Grace Anatomy è andata in onda nel 2005 e da allora i suoi protagonisti sono diventati delle autentiche star. . In particolare Ellen Pompeo e Patrick Dempsey hanno raccontato una storia d'amore intensa e romantica, in cui non è mancata anche una grande drammaticità, portata all'estremo poi con la morte di Derek Shepard a seguito di un incidente stradale. . Il pubblico si è identificato molto nella trama di questa serie tv, considerando i personaggi quasi dei conoscenti, a cui appassionarsi con affetto e una sincera curiosità. . Dopo circa 12 anni, Ellen Pompeo continua ad interpretare il ruolo di Meredith, modificandosi con il tempo e imparando a plasmare anche il suo personaggio. . L'attrice ha raggiunto un grande successo e vive felice insieme al marito e ai loro tre figli, e Patrick? Considerato uno degli uomini più sexy del mondo, Dempsey ha dimostrato di possedere un'elisir di giovinezza che gli permette di diventare sempre più affascinante con il passare degli anni. . La sua decisione di abbandonare la serie tv per dedicarsi a nuovi progetti ha creato il caos tra i suoi fan, che non potevano immaginare di perdere uno dei protagonisti simbolo di Grace Anatomy. . Oggi la star di Hollywood ha intrapreso nuovi progetti e si dichiara molto soddisfatto, il pubblico non deve fare altro che attendere i prossimi sviluppi, certi che il loro beniamino li saprà soddisfare. . Grace Anatomy ha coinvolto il mondo intero, raccontando storie di vita vissuta, nel bene e nel male, è stato proprio questo il segreto del suo successo straordinario. .